Ingegneria di Sistemi Intelligenti Ingegneria di Sistemi Intelligenti è una laurea magistrale a cui si accede da diverse lauree e che risponde alla crescente richiesta del mondo del lavoro di nuove figure professionali dove i dati e la trasformazione digitale giocano un ruolo cruciale. Il corso si può disegnare su misura per gli studenti perché possano diventare professionisti del domani al passo dei tempi. Gli sbocchi professionali sono tantissimi. Studiare Ingegneria al Campus Biomedico significa avere uno stretto rapporto con le aziende che oggi richiedono sempre più laureati in discipline tecnico-scientifiche e figure come il Data Engineer, il Data Analyst e il Data Scientist. Ingegneria dei Sistemi Intelligenti è un corso di laurea che sia nei contenuti che nelle prospettive occupazionali ha un respiro internazionale. È inoltre costruito sulle effettive esigenze di mercato. Infatti, le aziende che sono pronte ad assumere i professionisti in questo settore hanno concorso alla definizione del programma di laurea. Appena laureati, i nostri studenti sapranno estrarre informazioni utili all'identificazione di nuove opportunità di business, analizzando diverse tipologie di dati per lo sviluppo di soluzioni utili a migliorare la qualità della vita delle persone. Perché a Campus Biomedico crediamo nella scienza al servizio dell'uomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.